Ancora Zalate, Zalate, Rocchi, Zalate, Maurito, pallonetto, Maurito, Zalate, yes! Corre sotto la curva nord, un gol strepitoso, il triangolo con Tommaso Rocchi e poi Zalate, un cucchiaio e manda a spasso Antonioli, grande gol di Maurito Zalate. E finalmente forse chiudiamo la gara, che gol ragazzi, straordinaria azione della Lazio con Tommaso Rocchi che concede la platea anche a Maurito che fa un pallonetto straordinario, scavalca Antonioli, ruba il tempo e segna il secondo gol, doppietta di Maurito Zalate. straordinario, 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 straordinario Maurito, grandioso Maurito. Eh ragazzi, questo è calcio, questo è calcio, questo è calcio! Intanto D'Abbò ruba palla.